Ciao, sono Veronica Savaglio, la tua consulente domoria per la città di Torino e provincia. Oggi ci troviamo nel comune di Pianezza e più precisamente in via Val della Torre, a pochi passi dal centro del paese. Quella che ti sto per mostrare è una soluzione estremamente particolare, nel senso che in questo momento non c'è nulla di simile in vendita nel comune di Pianezza. Questa è una casetta indipendente, disposta su due livelli, direi ideale per una coppia che vuole iniziare a vivere insieme per costruire il suo nucleo familiare. Andiamo! Ben entrato! Come puoi notare, l'ingresso è direttamente sulla zona giorno, che è un'ambientazione unica con il corpo del blocco cucina da questo lato. Certamente la particolarità di questa casa, oltre al fatto che sia indipendente, sta nel fatto che c'è questo giardino adiacente alla zona giorno. Ora, il giardino è stato un po' lasciato andare, nel senso che, come puoi notare, c'è l'erba incolta. Ma questa zona qua, arredata con un gazebo, con delle siepi che creano tutto il perimetro della proprietà, sarà uno spazio molto fruibile, soprattutto nelle stagioni calde. La porta che vedi da questa parte è il sottoscala, che è stato adibito a ripostiglio. Quindi, nella zona giorno hai una zona dedicata a tutto quello che è lo spazio per poter mettere via le cose scomode, diciamo, le scope, l'aspirapolvere, tutto quello che ti occorre. A questo punto ti faccio vedere il piano superiore. Seguimi! Ben arrivato al piano superiore. A questo punto ti mostro le due camere da letto. Questa è la prima camera. Direi che è adatta nel caso in cui tu abbia già un bimbo, e quindi questa potrebbe essere tranquillamente la sua camera, oppure nel caso in cui fossi da solo con la tua compagna, questo potrebbe diventare lo studio che magari è da tanto tempo che stai desiderando, la tua parte, la tua zona privata dove poter dedicarti al lavoro o a quelli che sono, insomma, ai tuoi interessi preferiti. Proseguendo, abbiamo adiacente la camera da letto matrimoniale, dotata di balcone. È un balconcino, non è un balcone vivibile, che affaccia frontalmente rispetto alla proprietà che stiamo vedendo, e devo dire che la vista è alquanto gradevole. Perfetto. Non ci resta che andare a vedere, anzi, ad aprire l'ultima porta, che è quella che ci porta nel bagno. decisamente ampio, tant'è che abbiamo sia la vasca che la doccia. Bene, il nostro appuntamento è terminato, e quindi a questo punto non mi resta che rimandarti al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969, per prenotare la tua consulenza personalizzata gratuita, e soprattutto per scoprire se effettivamente questo sarà il tuo prossimo nido d'amore. Al prossimo video. Ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!